Musica Sono 33.000 le domande per richiedere il contributo a fondo perduto per la crisi del dopo Covid. La paura di contrarre il virus tiene lontani gli automobilisti dalla sosta nelle aree di servizio, si stima un calo del 40%. La sentenza del TAR dà ragione a Graziano Di Natale, ponefina alla lunga diatriba con il sindaco di Trebbi Sacce per un posto in consiglio. Probabilmente è stato un malore a causare la morte per annegamento di una donna Catanzaro Lido. Il castello di Torre Melissa ha ospitato la cerimonia di consegna della bandiera blu. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In Calabria sono sino ad oggi 33.000 le richieste di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio per le imprese e le partite IVA colpite dalla crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria. Le maggiori richieste arrivano dalla provincia di Cosenza. Gli eventi di ditto hanno tempo fino al 13 agosto per presentare la domanda. Vediamo. In Calabria sono quasi 33.000 le richieste di accesso al contributo a fondo perduto a 20 giorni dall'apertura del canale. Il dato reso noto dall'Agenzia delle Entrate che fa sapere che più di 25.000 domande sono state vase e le somme sono già state accreditate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani per un totale di 61.500.000 euro erogati. 10.200 sono contribuenti persone non fisiche mentre 21.008 persone fisiche. Cosenza è la provincia dove sono state presentate più richieste 13.168 e un contributo erogato pari a 24,6 milioni di euro. Seguono poi le province di Reggio Calabria con 7.497 domande e 13,4 milioni di euro. Catanzaro 6.888 istanze e 13,5 milioni di importo. Bibo Valencia 2.676 domande e 4,9 milioni di euro. E Crotone con 2.645 richieste e 5 milioni. Il decreto l'Irancio, lo ricordiamo, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, cioè senza alcun obbligo dell'istituzione, a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. Gli aventi diritto hanno ancora tempo per richiedere il contributo. La domanda, infatti, può essere presentata fino al 13 agosto. Il 24 agosto, invece, per gli eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto. Il decreto rilancio ha creato tante aspettative. Anche in Calabria riuscirà a dare delle risposte. Abbiamo girato la domanda all'onorevole Massimo Vissini. Vediamo. Il via libera ieri della Camera al decreto rilancio, che ora passa al Senato per il voto definitivo, un provvedimento per il quale c'è molta attesa per quella che sarà la ricaduta. Ma quale peso avrà in Calabria? Il decreto rilancio dovrebbe essere quella giusta benzina che dà e dovrebbe dare la possibilità anche a una terra così difficile come la Calabria la possibilità di riemergere e avere il, tra virgolette, il cosiddetto rilancio. Un rilancio che, per quanto riguarda le manovre vere e proprie in Calabria, ha sicuramente la stabilizzazione, la conferma di un passaggio da ferrovie dello Stato, per quanto riguarda il porto di Gioia e Tauro. Il porto di Gioia e Tauro è stato molto attenzionato. Così come è stato attenzionato quella che è in generale, in tutta Italia, la problematica riguardante il turismo. Il turismo in senso di ristoranti, alberghi, si è fatto qualcosa per il wedding. Fondamentalmente abbiamo cercato di dare aiuto economico a tutti. Il problema, la vera verità, è che per quanto si possa e si volesse dare aiuto allo stato di crisi, poco è la quantità di materiale, di soldi sulla quale abbiamo potuto lavorare. Tra forse maggioranza e forse minoranza si è lavorato di fatto su 800 milioni di Euro. Vero è che tutte le manovre sposteranno 55 miliardi di Euro. Così come è altrettanto vero è che ci sarà un'ulteriore manovra di scostamento di 20 miliardi. E nell'ambito di questo scostamento, nell'ambito di questa attenzione che è stata fatta a tutto il territorio, sicuramente la Carrabbia dovrebbe avere la forza di venirne fuori, anche se mi rendo conto che per quanto si possa aver fatto non è sufficiente, non è stato sufficiente. E le difficoltà che i calabresi in particolare dovranno vivere, come tutta l'Italia, penso e spero che non sia così, spero di essere sventito, saranno tante. Sulla fronte della Regione con il riparti Calabria sono stati erogati 29 milioni di Euro a 14 mila imprese. Questi numeri a 32 giorni dalla chiusura dello sportello per il riparti Calabria. Lo ricordiamo, è il contributo previsto una tantum dalla Giunta regionale a favore delle micro imprese che avevano subito danni a causa della chiusura forzata per l'emergenza Covid-19. In un solo mese, afferma la Presidente della Regione, siamo riusciti a istruire e pagare un numero considerevole di domande. tempi da record in fase di lockdown da più parti lamentano che siamo veloci. Devo dire che è vero, ogni volta che diciamo cosa fare, dobbiamo saper dire anche come fare e farlo. Queste le parole della Presidente Santelli. Sul fronte invece della cazza integrazione, ci sono dei ritardi nell'erogazione. è una denuncia della FIOM CGL che già minaccia una protesta di piazza. Il turismo è il settore trainante della nostra Regione, risente anche di questa emergenza sanitaria. Noi abbiamo fatto un giro nelle aree di servizio sulla 2 Salerno-Reggio Calabria per vedere se la gente, nonostante ormai siamo nella fase 3, quindi è una fase di post-Covid, si ferma per fare rifornimento, prendere qualcosa al bar. Sentite cosa ci hanno detto i gestori. Inizia oggi il secondo weekend di luglio e lungo la 2 del Mediterraneo il traffico è scorrevole. Siamo andati a verificare in alcune aree di servizio qual è la situazione, se i pendolari e i vacanzieri sostano nonostante l'emergenza Covid e soprattutto quali sono le misure adottate per prevenire possibili contagi. Noi abbiamo registrato più o meno circa un 30-40% in meno rispetto allo scorso anno. Magari fine settimana si riesce un po' a lavorare meglio, però durante la settimana il calo è molto notevole. Il mese di agosto è sempre stato il mese dove si intensifica il traffico per quanto riguarda l'esodo estivo, quindi noi ci speriamo e invitiamo le persone a venire qua anche perché noi cerchiamo di rispettare tutte le regole, facciamo sanificazioni quotidianamente sia a bagni che bar. Termoscanner all'ingresso nel bar della stazione di servizio, oltre alla colonnina con il dispenser di igienizzante, sono le prime regole da seguire senza dimenticare la mascherina protettiva. Incentiviamo sempre l'utilizzo pure della mascherina, invitiamo magari sempre i clienti che entrano nel bar a utilizzare la mascherina, perché non tutti rispettano le regole e noi facciamo in modo che le regole vengano rispettate per una sicurezza nostra e per una sicurezza di tutti. Il calo c'è, inutile negarlo e sono cambiate anche le abitudini di sosta. Abbiamo notato che le persone magari fanno la sosta in modo veloce, si fermano magari portando anche del cibo da casa perché hanno anche paura di entrare nei locali visto la situazione di questo Covid. E queste sono le conseguenze economiche del Covid. I contagi, oggi il bollettino della regione Calabria ci segnala un nuovo contagio, uno in più rispetto a ieri, si tratta ed è stato registrato nel Crotonese. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 101.548 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.186, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 100.362. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro 1 in reparto, 183 guariti, 33 deceduti. Cosenza 1 in isolamento domiciliare, 434 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto, 17 in isolamento domiciliare, 256 guariti, 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare, 112 guariti, 6 deceduti. Vibo Valencia 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.050. Non abbassare la guardia e questo è il messaggio che arriva dal Dipartimento Prevenzione dell'ASFA di Cosenza che continua a lavorare ed effettuare dei tamponi. Ma sentiamo qual è ad oggi la situazione sul territorio Bruzio. Il servizio Prevenzione dell'ASFA di Cosenza lavora quotidianamente sul fronte coronavirus. Non bisogna abbassare la guardia, il messaggio è chiaro. Ma oggi qual è la situazione? Ci sono casi positivi tra tutti i tamponi fatti. Stamattina le Ferti ci dicono che la situazione è sotto controllo. Ne abbiamo fatto all'incirca 200. tra operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private, tra tamponi di persone che provenivano da altre regioni e tamponi pre-ricoveri. Questi ultimi non devono farci pensare che sono inutili perché proprio questi hanno messo in evidenza una positività di un nostro concittadino in Nord Italia, con un concittadino che è andato a fare un piccolo intervento e che è costretto in quarantena insieme alla moglie in attesa che si negativizzi. Questo significa che nel Nord ancora il virus circola, possiamo sempre informarci dai report quotidiani della protezione civile, che circola anche con una certa forza. I vacanzieri che arrivano in Calabria vengono controllati. Ci sono le risorse per queste attività? Le USCA, previste, otto sedi e quattro unità mobili sul territorio, sono già operative? Noi abbiamo effettuato per più di 10 giorni, presso la stazione di Paola, circa 600 tamponi su cittadini provenienti dalle altre regioni italiane che si sono registrate sulla piattaforma regionale e che hanno accettato di fare il tampone. Quindi è tutto programmato con una procedura che abbiamo standardizzato ormai. in più c'è che oggi abbiamo fatto l'incontro con i medici responsabili del Dipartimento di Prevenzione dei territori di tutta la provincia di Cosenza, quattro medici convenzionati e otto infermieri, perché da lunedì partono le USCA. Queste unità speciali di continuità assistenziale ci possono aiutare a fare i tamponi e quindi eseguirli in emergenza-urgenza, in caso mai ci sono problemi di positività e quindi per la rilevazione dei fochelai nel più breve tempo possibile, l'esecuzione dei tamponi presso le stazioni ferroviarie, le autoestazioni, l'area di sosta e in più facciamo con le USCA la cosiddetta esecuzione programmata. Il Tar della Calabria ha respinto il ricorso del sindaco di Trebisaccio e Franco Mundo contro l'elezione in Consiglio regionale di Graziano De Natale. Vediamo. Il Tar della Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso del sindaco di Trebisaccio e Franco Mundo che nell'ultima competizione elettorale per le regionali ha sfiorato l'elezione e che reclamava il seggio di Graziano Di Natale, presidente del Consiglio Comunale di Paola, eletto consigliere regionale nella lista di Io resto in Calabria. Il giorno dopo la decisione del Tribunale amministrativo diversi gli umori tra i due protagonisti della vicenda, soddisfatto Di Natale che rimane al suo posto. Una sentenza che ha dimostrato che la legittimità della mia elezione al Consiglio regionale è anche l'inattendibilità di alcune dichiarazioni testimoniali di soggetti che hanno dichiarato di aver assistito alle operazioni elettorali a Paola e invece si trovavano in tutt'altra parte, una cosa davvero fuori dal normale. Una vicenda che però avrà anche uno strascico giudiziario. Rispetto ad alcuni profili ho presentato una denuncia per falso alla Guardia di Finanza. Deluso Mundo che è stato condannato anche al pagamento delle spese. Io che sono anche un operatore di giustizia, devo prendere atto della decisione del Tribunale anche se non condivisa, devo fare i complimenti a Di Natale e basta. Stiamo valutando ora con i miei legali colleghi e avvocati, stiamo valutando attentamente il da farsi leggendo bene la motivazione, se ci sono gli estremi per un'eventuale impugnativa ma che al momento escluderemo. Ritorniamo ad occuparci dell'operazione Pedigria a Reggio Calabria. Lo ricorderete, 12 gli arresti. L'indagine ha messo in luce la capacità pervasiva delle cosche. Vediamo. L'Andrageta spesso viene paragonata dai suoi affiliati, dai sostenitori non organici ma ugualmente destabilizzanti come una sorta di Stato nello Stato. Una stortura sociale tremenda, certo, anzi di più, ma che purtroppo trova l'infa spesso nei comportamenti di persone estranee alle cosche. Non è una novità, ma ogni volta che emergono situazioni come quella che vi rappresenteremo ci si meraviglia e non poco. Dall'inchiesta Pedigria scattata ieri dopo un'indagine della Polizia di Stato e della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e che ha portato all'arresto di 12 persone emerge in maniera chiara e per l'ennesima volta la capacità pervasiva delle cosche. Il boss Maurizio Cortese, capo del clan Serraino colpito dall'operazione di ieri insieme al clan Alleato dei Libri aveva un ruolo di controllo nel mondo imprenditoriale, in quello politico. Il gruppo si era speso in favore di candidati di suo gradimento in passate competizioni elettorali ma anche l'autorevolezza di dirimere situazioni di conflittualità. Accade infatti che Paolo Pitasi, non un seconda fila del clan Suogero di Cortese debba intervenire per impedire che un suo amico dentista venga vessato da un'altra cosca che chiede l'obbolo di protezione per lavori che il professionista deve fare in una villetta di sua proprietà nel quartiere Gallina. Una situazione anomala la giudica Pitasi perché il dentista sta facendo lavori in piena economia nelle intercettazioni si ascolta l'uomo e i suoi interlocutori ragionare sull'inopportunità della richiesta estorsiva è un lavoretto, in sostanza dicono gli intercettati niente che possa suscitare appetiti già si sa l'andrangheta se si ubriaca si ubriaca di Vino Doc Tragedia questa mattina Catanzaro Lido una donna di 75 anni è annegata probabilmente a seguito di un malore vediamo Questa è la spiaggia dove si è consumata la tragedia siamo a Catanzaro Lido una donna di 75 anni è morta mentre faceva il bagno erano circa le 10 la donna si era da poco immersa nelle acque cristalline di questo tratto di mare probabilmente però a seguito di un malore sarebbe annegata un dramma che ha scosso i tanti bagnanti che affollavano i lidi di Catanzaro in questa calda mattinata di luglio alcune persone che erano in spiaggia avrebbero notato la donna in difficoltà la 75enne è stata così trasportata a riva in prossimità di un Lido le sono stati prestati i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 immediatamente allertati sul posto sono intervenuti anche la guardia costiera, la polizia e un elicottero con i sanitari nonostante i tentativi di rianimazione però la donna non ce l'ha fatta una buona notizia diventa alto secondo gli standard ministeriali il livello di assistenza nel reparto di ortopedia dell'annunziata di Cosenza vediamo il reparto di ortopedia dell'annunziata di Cosenza invetta le classifiche nazionali per la tempestività degli interventi di frattura del collo del femore il 74% degli interventi eseguiti entro due giorni il dato riferito al primo trimestre consente all'annosocomio Bruzio un appiazzamento di rilievo nelle classifiche nazionali dove lo standard medio si attesta al 64% e certamente al primo posto in Calabria un risultato che è stato possibile raggiungere ha dichiarato il direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia Gualtiero Cipparrone a seguito della revisione del modello procedurale fortemente voluto dalla direzione strategica che ha coinvolto sinergicamente le unità operative di ortopedia, pronto soccorso, anestesia e rianimazione lavoro in team, implementazione e piena operatività del percorso diagnostico assistenziale razionalizzazione delle sedute operatorie pieno coinvolgimento degli operatori sul raggiungimento dell'obiettivo e monitoraggio costante dell'andamento dell'indicatore sono stati gli elementi che hanno consentito il raggiungimento di questo importante traguardo e lo standard passa dal 16 e 12% del 2017 al 74% del 2020 Da settembre 2019, ha spiegato Cipparrone abbiamo lavorato per avvicinarci all'indicatore ministeriale che fissa al 60% la percentuale minima di interventi chirurgici e ortopedici da eseguire entro 48 ore questo livello lo abbiamo raggiunto e abbondantemente superato nel primo trimestre 2020 attestandoci al 74% un indicatore importante è questo se si considera che il progressivo invecchiamento della popolazione e l'inalzamento dell'aspettativa di vita determinano proporzionalmente l'aumento del numero di persone soggette a rischio di frattura del femore l'intervento tempestivo della frattura del collo del femore nei soggetti anziani ha concluso il primario di ortopedia riduce la mortalità e l'insorgenza di complicanze post-operatorie determinando anche un recupero funzionale ottimale presentata Melissa la bandiera blu assegnata al comune del crotonese per il nono anno consecutivo vediamo per il nono anno consecutivo il comune di Melissa è stato premiato con la bandiera blu riconoscimento assegnato in base a rigorosi controlli dalla FE alle spiagge certificate per la qualità ambientale non solo delle loro acque ma anche per gli spazi verdi per i parametri di vivibilità e di sostenibilità verso i turisti la torre aragonese di torre Melissa la location scelta per presentare l'importante riconoscimento assegnato lo scorso 14 maggio in videoconferenza credo che la nona bandiera blu sia la sintesi di un lavoro fatto in questo anno e soprattutto la capacità di Melissa di candidarsi ed essere pari a quelli che sono ormai altri paesi diciamo che hanno raggiunto le eccellenze negli anni passati Melissa invece in questi ultimi anni sta cercando di misurarsi con realtà importanti del turismo calabrese è un riconoscimento di un comportamento amministrativo virtuoso per la sostenibilità ambientale e anche cittadina di questa splendida comunità tuttavia noi nella nostra provincia ancora siamo fermi a due bandiere blu Ciro Marina e Melissa e auspichiamo che nei prossimi anni altri comuni della nostra provincia splendidi, altrettanto splendidi, possono conquistare questo importante e prestigioso riconoscimento Melissa è tra le 14 località calabresi ad aver ottenuto la bandiera blu anche in questa stagione caratterizzata dall'enorme anti-covid si punta dunque sulla capacità attrattiva delle località calabresi è anche una stagione difficile come questa del covid la testimonianza è che comincia ad arrivare anche i charter comincia ad arrivare il turismo straniero c'è un turismo interno, io sto notando che anche in queste zone le nostre piccole comunità e comuni si sono riempiti di un turismo di possibilità di ritorno e noi dobbiamo sempre di più migliorare i servizi migliorare noi stessi e immaginare che se vuoi essere una terra accogliente se il turista che arriva è scontento per questo significa poi le bandiere blu, i servizi, la capacità di una bella spazzatura per strada che purtroppo ci troviamo ogni 5 anni come ennesima emergenza che anche oggi stiamo gestendo quindi insieme alle emergenze ma soprattutto la ripartenza e la visione del futuro la consueta rubrica della Bossa, vediamo Chiusura e rialzo per le borse europee mentre Wall Street migliora rispetto all'apertura in scia l'ottimismo per i progressi nelle cure contro il coronavirus se da una parte gli USA hanno registrato il record giornaliero di decessi per Covid-19 oltre 60.000 con situazioni critiche in Florida, Texas e California dall'altra, Gilosciences ha reso noto che il suo trattamento Remdesivir riduce la mortalità del 62% gli operatori restano comunque preoccupati dall'eventualità di nuovi lockdown e guardano a possibili nuovi stimoli per l'economia intanto in Cina si è interrotta la corsa dell'azionario in scia alle vendite dei fondi statali che segnalano la volontà delle autorità di rallentare il passo ed evitare lo scoppio di una bolla finanziaria a Milano il Futsmib archivi agli scambi in progresso dell'1,3% seguito dal DAX di Francoforte e l'Ibex 35 di Madrid a più 1,1 il CAC 40 di Parigi a più 1% e il Futs 100 di Londra a più 0,8 oltreoceano andamento contrastato per il Dow Jones a più 0,6 l'S&P 500 a più 0,3 e il Nasdaq a meno 0,1% Sul Forex l'euro-dollaro risale sopra quota 1,13 mentre il cambio tra biglietto verde e yen scende a 106,7 tra le materie prime hanno invertito la rotta le quotazioni del greggio con il Brent a più 1,3% a 42,9 dollari e il VTI a più 1,3% a 40,1 dollari al barile Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund torna in aria a 169 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,22% aspettando la revisione del rating sull'Italia da parte di Fitch Tornando a piazza affari, tra le big cap avanza STM a più 5,1 in evidenza anche Interpamp a più 3,1% ben intonate le banche mentre arretrano Ricordati a meno 1,2 Saipem a meno 0,8 e Inuit a meno 0,7% Grazie e buon proseguimento di serata Chiudiamo con le previsioni del tempo La presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale garantirà un fine settimana stabile e soleggiato sulla nostra regione con temperature in momentaneo leggero rialzo che risulteranno di qualche grado al di sopra delle medie stagionali Domani cielo sereno ovunque Temperature in leggero aumento Passiamo a mari e venti Domani poco mosso il Martireno con venti dei quadranti occidentali Calmo il Marlioni con venti a regime di prezza Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi Grazie a Regia, Michele Cava, in Messinonda, Giuseppe Costanzo Noi vi auguriamo un felice weekend Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti